Cos'è lo sportello dell'imprenditore? Lo sportello dell'imprenditore è voluto fortemente dal Consiglio della Confartisanato di Cavarzere. È uno spazio che verrà dedicato proprio ad ognuno di voi affinché possiate avere supporto a 360 gradi, voi come imprenditore. Per fare questo ci siamo appoggiati, abbiamo pensato che è giusto, è opportuno, è corretto. Ampliare il nostro staff, ampliandolo verso chi queste cose le fa tutti i giorni, verso professionisti di provata esperienza che ci possono dare una mano a seconda della tipologia del problema che può nascere. Attraverso il nostro avvocato, ormai conosciutissimo l'avvocato Sambo, ho conosciuto l'avvocato Anna Lanzo, proprio per una consulenza che abbiamo fatto per un nostro imprenditore che si è trovato veramente in una situazione molto pesante. Non mi nascondo che andare contro una banca non è semplice, non è facile. Noi ce l'abbiamo fatta, giusto l'avvocato? Ce l'abbiamo fatta e abbiamo portato a casa il risultato. Da qui è partita proprio l'idea di dire, diamo una mano a chi è in difficoltà, ma anche a chi non è in difficoltà, ma ha bisogno semplicemente di trovare la strada giusta, di essere cosciente di ciò che vuol dire essere imprenditore. Molte volte mi sento dire, facciamo un SRL e così sono a posto? Non è così, perché con la crisi d'impresa l'amministratore nel caso di crisi risponde con tutti i suoi beni. Quindi, ok, ma io non sono in crisi, per carità, per fortuna. Ma vediamo quali sono gli elementi che possono fare delle sentinelle, che possono dire attenzione qua, attenzione là. Ecco, questa sera è il primo di una serie di incontri. Le relatrici sono qui a fianco a me. Adesso loro vi daranno degli spunti, poi ci saranno altre serate, una serata dedicata al datore di lavoro. Quindi, cos'è il datore di lavoro, qual è il rapporto reale con i dipendenti, doveri, sì, ma anche i diritti. Giusto? Abbiamo invitato il nostro sindaco perché crediamo fortemente che questo sia un avvenimento importante per tutto il territorio, fondamentalmente. Lascio la parola al sindaco. Buonasera a tutti, buonasera, grazie Concetta, grazie anche agli attrici che aglietteranno questo primo incontro di una serie di incontri che ritengo fondamentali. Io mi scuso fin da ora se non potrò restare qua fino alla fine, ma ci tenevo particolarmente, nonostante un pochi impegni di oggi che si erano accumulati, a essere presente oggi. Perché? Perché ovviamente come amministrazione noi ci teniamo a sostenere i nostri imprenditori, le nostre associazioni di categoria che sono fondamentali. E il lavoro che state facendo, il lavoro è greggio, quindi ringrazio te, Concetta, ringrazio il Presidente, ma ringrazio tutti voi associati perché? Perché, come si parlava prima, l'imprenditore una volta era quello che usava per la bicicletta, faceva tutto, non aveva bisogno di nessuno, era autonomo dall'inizio alla fine. Oggi, vuoi per le normative sempre più stringenti, vuoi perché ovviamente la burocrazia in Italia la conosciamo tutti, quindi l'imprenditore deve essere lasciato a fare quello che sarà per far meglio, ossia lavorare. E quindi ha bisogno di una serie di persone che gli danno una mano in tutte quelle serie di attività correlate, quali possono essere ovviamente le consulenti, quali possono essere le attività del commercialista, quali possono essere tutta una serie di persone che lo aiutano nell'impresa. Ma l'imprenditore deve solamente lavorare, fare quello per il quale ha avuto l'idea, per il quale ha investito i suoi denari, per il quale ha investito tutta la sua attività. E quindi questa serie di incontri va proprio in questo senso, in questa direzione, creare tramite l'associazione di categoria un supporto, e lo sportello è proprio questa risposta che è necessaria, e per il quale anche noi con l'amministrazione stiamo cercando di collaborare con la Confattigianato per cercare di offrire ancora di più, non solo un supporto all'imprenditore che ha bisogno, ma anche quell'attività di consulenta per fare in modo che anche giovani, vedo qualche giovane anche seguito qua nella platea, possa essere anche aiutato qualora abbia l'idea. Molto spesso negli anni d'oro se aveva un'idea si partiva con il niente e si faceva fortuna. Oggi in realtà il meccanismo è molto più complesso e quindi anche il giovane che ha l'idea magari non fa il passo ulteriore perché si trova davanti un muro tra burocrazia e quant'altro che gli impone di fermarsi. Lo sportello e quello che abbiamo in mente di fare, che adesso non diciamo, ma che c'è un bel progetto, una bella idea di concerto con ovviamente l'associazione di categoria e l'amministrazione, va proprio in quella direzione. Quindi benvengano questi incontri, benvengano anche la massima partecipazione che vedo in questo primo incontro perché noi siamo un territorio che ha bisogno di queste risorse, ha bisogno delle risorse dei nostri cittadini che vogliono investire, ha bisogno di queste risorse, di imprenditori che devono credere nel territorio. Quindi essendo lungo il territorio imprenditore, io credo che remando tutti nella stessa direzione, possa sicuramente avere la soddisfazione dell'imprenditore, ma dall'altra parte può avere anche soddisfazione un territorio, un'amministrazione che deve implementare quella che è l'offerta imprenditoriale e l'artigiana del territorio. Io vi ringrazio e complimenti ancora per la lodevole iniziativa e per qualsiasi cosa noi ci siamo. Ok, grazie.